nei due video precedenti abbiamo visto come il lancio dello sputnik segni uno spartiacque tra il significato tradizionale della luna e la luna rinnovata la luna cioè che presto di lì a una tozzina d'anni sarà raggiunta dall'uomo la picconata definitiva la luna tradizionale arriva quando nel 62 il presidente Kennedy non soltanto annuncia le missioni Apollo che dal punto di vista scientifico porteranno nuove immagini della luna stessa mettendola a nudo ma addirittura che vuol portarci l'umanità dice proprio così Kennedy l'umanità poi poi però le cose si fanno più divertenti man mano che ci si avvicina allo sbarco dell'uomo sulla luna e nel febbraio del 68 inizia occuparsi di questo argomento un poeta regista un grande intellettuale italiano Pierpaolo Pasolini e lo fa con un articolo che ho implicitamente citato nei video precedenti perché Pasolini parla proprio di luna consumata qualcosa mi impedisce di parlare degli astronauti vediamo nei giornali leggo solo i titoli più grossi ho provato a scorrere le righe che li seguono ma mi sono immediatamente annoiato e comunque mi sono accorto che gli articoli non dicevano molto di più dei loro titoli i fatti che queste tecniche di informazione ci fanno consumare sono senza mistero primari essi ci sono e noi li apprendiamo non c'è altra difficoltà ci disponiamo immediatamente ad attendere i fatti futuri più o meno imminenti impazienti di consumarli e quando ormai lo sbarco sulla luna appare imminente ad appena 15 giorni da quel 20 21 luglio del 69 ecco che scende in campo un altro premio nobel eugenio montale con un piccolo capolavoro ironico luna che ho torto collo guardo in fotografia quale fortuna ti incolse quando ti distaccasti da una terra in ammollo ma ora il montale qui fa un'operazione abbastanza simile a quella delle cosmi comiche prende la teoria di formazione della luna che a quei tempi era maggiormente accreditata e la trasforma in poesia la luna in effetti si sarebbe formata da uno scontro titanico tra una terra non ancora ben solidificata e un grande corpo delle dimensioni per esempio di di martel e tuffandosi nella nella terra semiliquida questo corpo avrebbe fatto saltar fuori una più gocce che sarebbero poi diventate la luna ma ora si chiede montale ora che la luna siano uscita da questa terra molliccia non ancora non ancora solidificata povera luna era stata fortunata si era allontanata da tutti i pasticci umani e ora e gli risponde di nuovo pasolini all'inizio d'agosto dello stesso anno quindi 15 giorni dopo lo sbarco lunare ciò che rende resistenti ad amare l'impresa lunare è che essa è un'impresa del potere il potere compie finanziando le più grandi imprese e noi tutti lì a bocca aperta ad ammirare è chiaro che non vogliamo tornare troppo bambini che non vogliamo essere ridotti eternamente allo stato di figli c'è ancora un'ultima osservazione da fare la conquista della luna è un'impresa dell'umanità ma perché divenga veramente tale occorre che tale umanità sia libera parlo da utopista lo so ma o essere utopisti o sparire c'è pasolini dice quella operazione quell'impresa di sbarco lunare è un'operazione lontana dal popolo adesso deve tornare al popolo per essere significativa per essere accolta per essere interiorizzata appunto passano di nuovo 15 giorni e pasolini scrive un terzo pezzo fatto di orme e di impronte vedo la famosa fotografia delle impronte dei piedi umani sul suolo della luna questa fotografia mi rievoca altre immagini queste impronte mi rievocano altre impronte povero vecchio uomo ancora quasi bestia che lasciavi i tuoi segni sulla terra il tuo passaggio su questo mondo era testimoniato da un nulla un orma appunto o un segno inciso dalla tua goffa bestiale e già laboriosa mano poche cose conciliano con l'uomo lo rendono fraterno riempiono di un senso distruggente ma giusta pietà per lui quanto le sue tracce più infime e umili montana invece impiega un po più tempo per ripensarci nel 71 dopo che ormai la luna ha iniziato a diventare un luogo abbastanza frequentato se non altro dagli astronauti perché le missioni a pollo si susseguono le une alle altre decide di salire anche lui a bordo del nostro salerite naturale è lì di contemplare dalla luna o quasi il modesto pianeta che contiene scrive filosofia teologia politica pornografia letteratura scienze palesi o arcane è di nuovo il solito pianeta dolente dell'uomo nella poetica di montale no e montale recupera questa funzione della luna cioè il cambio del punto di vista ma questa volta lo fa in modo rinnovato lo fa veramente da astronauta dopo che l'uomo c'è davvero andato sulla luna e davvero ha guardato la terra non è più soltanto potenza dell'immaginazione ma è cosa fatta tant'è vero che conclude montale questa poesia in modo intenso con una delle frasi più struggenti forse dolorose della nostra contemporaneità scrivendo se uno muore non importa a nessuno purché sia sconosciuto e lontano ecco insomma siamo alla fine di questo percorso mentre calvino va in una direzione di rinnovamento scientifico dell'immaginario letterario montale recupera una funzione tradizionale della luna e pasolini invece la aggiunge come un nuovo tassello che illumina una storia sono tre modi diversi per fare proprio la scienza l'impresa tecnologica sono tre punti di vista e non bisogna scegliere uno o l'altro tra l'altro sono soltanto alcuni esempi solo tre appunto ma se ne potrebbero fare tantissimi altri bisogna solo prendere atto di una cosa semplice ovvero che le imprese umane letterarie scientifiche tecnologiche sono complesse e per capirle bisogna tenere insieme tutti i punti di vista non è semplice però oggettivamente è molto più divertente molto più a colori in questo modo che vedere tutto in bianco e nero ragazzi e se ve lo dice un giuventino potete crederci scusate dimentichavo alla fine la luna l'abbiamo presa